Il Consiglio Comunale di Giarra ieri ha approvato solo l'atto di indirizzo presentato dalla Quarta Commissione Consiliare riguardante i tirocini formativi per giovani migranti. L'atto invita l'amministrazione comunale ad attivarsi per partecipare all'avviso emanato dal Ministero del Lavoro insieme ad Italia al Lavoro per il finanziamento di percorsi di integrazione sociolavorativa destinati a minori non accompagnati e giovani migranti. L'avviso mira a sostenere l'utente nell'acquisire competenze e capacità utili a promuoversi attivamente nel mondo del lavoro e prevede un'indennità di frequenza con contributi a favore del soggetto proponente e del soggetto ospitante senza aggravare sulle casse comunali. Come spiegato dalla Presidente Giussi Savoca, tra le idee vi sarebbe quella di fare svolgere ai giovani migranti attività di manutenzione del verde pubblico. L'argomento è stato occasione per parlare dei parchi pubblici comunali chiusi e in particolare del Parco Iungo che il mese prossimo dovrebbe ospitare la cerimonia in memoria dei caduti sul lavoro. Tutti i consiglieri sono stati concordi nel ritenere che i parchi devono essere sempre aperti. Il Presidente del Consiglio Comunale, Francesco Longo, ha invitato il consigliere Fabio Di Maria a chiedere la trattazione dell'argomento in una prossima seduta del civico consesso.